Carissimissimi amiche e carissimissimi amici, buonasera al vostro caro giocherellone che stasera vi porta Expeditions a MadRunner Game. Iniziamo subito a vedere Expedition ragazzi, vediamolo subito ragazzi, vediamo un pochettino. Andiamo subito a fare ovviamente il settaggio, qua qui sopra dovremmo avere la possibilità forse di iniziare praticamente a giocare qui in versione appunto italiana, ecco qua perfetto, e andiamo subito a giocare qui sopra. Quindi scegliamo uno solo 8 voto, base operativa, eccola qua ragazzi, la nostra grande base operativa è Aker Italia 23, italiano, ragazzo italiano che è sempre con noi praticamente, come lo sapete, il grande caro amico Aker Italia. Ci troviamo qui come potete vedere ragazzi in mezzo al furgoncino praticamente, dobbiamo accelerare, vedete, abbiamo completato la fase, abbiamo completato la fase, perfetto mi fai giocare per favore. Ok, freno a mano, premi A, praticamente RT, sposta sinistra e destra, oh mamma mia, stiamo nel fango ragazzi, siamo proprio nel fango, guardate qui, molto molto bello questo gioco, graficamente molto molto fluido. Vediamo il primo viaggio, praticamente perfetto, mettila, mettila, ecco qua, ok, attiva retromarcia, non ce la fa ragazzi, come devo fare, come devo fare, RB, ho capito, perfetto, ecco qua, vai davanti praticamente, vai in retromarcia, vado in retromarcia, metto la retromarcia, ok, vado a folle, ecco qua, vado a folle, perfetto, e non gira niente ragazzi, perché non gira niente? Inventa dispositivi, primo vi raggiungi l'accampamento, raggiungo l'accampamento se riesco a raggiungerlo, allaccando questo accampamento, eh, ho capito amico caro, giro le ruote, giro le ruote, ma se non riesco, se non riesco a metterlo, ecco qua, proviamo con la retromarcia, no ragazzi, eh, ma non mi entra la macchina, ah, devo accendere, quindi premo, ecco, ok, perfetto, andiamo con, perfetto, ok, perfetto, poteva più facile dove si accelerava solamente, eh, ok, perfetto, andiamo a premere, perfetto, ok, è andata, è andata, è andata, è andata, è andata, è andata ragazzi, 28 minuti, che gioco? Gioco ad Expedition a Mad Runner Game, andiamo ragazzi, dobbiamo andare in mezzo al fango, un gioco che ci porta a stare dentro al fanghetto ragazzi, potete vedere che praticamente posso accelerare a tutta forza dentro al fango e quindi mi devo uscire praticamente con questo furgone dal fango ragazzi, come potete vedere, è graficamente molto molto bello, quindi devo arrivare praticamente qui e siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta ragazzi, come avete potuto vedere, seguo gli indicatori di impresa per proseguire, va bene, seguiamo questi indicatori di impresa, andiamo praticamente da quest'altra parte qua, vediamo se riusciamo ragazzi a uscire fuori dal fango Agata Sorrentino ragazzi, è arrivata la grande Agata Sorrentino, che andiamo qui sopra anche a salutare praticamente, vediamo un pochettino, ah perfetto, quindi dobbiamo vedere se possiamo fare intrazione, ecco qua vedete, da tutte e due le parti, per andare ovviamente ad andare, vediamo un pochettino ad andare avanti ragazzi, vediamo un pochettino se possiamo, se ce la facciamo praticamente, vedete ragazzi, siamo ingolfati in questo mondo, in questa situazione, un pochettino bruttariele, adesso vediamo se ce la facciamo ragazzi ad andare avanti, forza motrice, veramente potentissima, vedete c'è il fango dappertutto, che gioco è? Si chiama Expedition, a Mad Runner Game, dobbiamo praticamente uscire dal fango, col nostro incredibile carrettino, il carrettino, vedi il carrettino che praticamente si trova in questa situazione un po' bruttariela, un po' questa situazione un po' bruttariela, vedi che praticamente, che praticamente dobbiamo arrivare lì sotto, e ce la puoi fare, ce la puoi fare, ce la puoi fare ad arrivare, andiamo a mettere quest'altra parte qua, questo è il folle, questa è la retromarcia giustamente, e questo ovviamente, che cos'è? Che cos'è? Questa è? Questo dovrebbe essere il folle, ah, questo è automatico, questo è basso, andiamo, vediamo se ce la fa in automatico, vedete un pochettino, perfetto, in automatico non ce la fa ragazzi, quindi dobbiamo mettere, ecco qua, perfetto, il nostro carrettino, vedete, non ce la fa praticamente, vedete, a girare, vedete, a cretare, ecco qua ragazzi, vedete che forse ce la facciamo, ce la facciamo, ma dai che ce la fai, dai che ce la fai, dai che ce la fai, ce la fai, ecco, ah, e si trova in una brutta situazione, quindi proprio qui sopra ragazzi, potevo, ho fatto, ho fatto una brutta, una brutta cosa ragazzi, ho fatto una brutta cosa praticamente, vedete, vedete un pochettino che cosa vado a fare, mamma mia ragazzi, dobbiamo dire la verità, vedete, vedete, non ce la fa, non ce la fa praticamente il camion, vedete un pochettino ingolfato, ingolfato, come non giocare a un videogioco ragazzi, come non giocare, praticamente il videogioco, vedete un pochettino se riesco, vediamo un pochettino cosa succede, vedete un pochettino, c'è fango dappertutto ragazzi, c'è fango dappertutto, il vostro giocatore non è si trova un po' di fecciato, ricordi di me, Antonio Carofala, e come non mi ricordo di te caro Antonio Carofala, ragazzi, mettiamo subito la prima e vediamo un attimo di andare, vediamo un pochettino di andare, praticamente mettendo la prima, ce la puoi fare, ce la puoi fare, ce la puoi fare, non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa ragazzi, forse dovremmo, dovremmo uscire dal gioco e iniziare praticamente la missione, perché siamo rimasti un po' male, siamo rimasti un po' male ragazzi per questo gioco, questo Mordered Expedition, che quando ti dice esco dal gioco, che cosa va a fare praticamente, cosa va a fare ragazzi questo incredibile giochettino, il incredibile giochettino, va praticamente si toglie, si toglie via praticamente, vediamo un po' se riusciamo a rigiocare ragazzi, a questo incredibile gioco che veramente ci ha fatto, ci ha fatto, ci ha portato simpatia, ci ha portato quell'allegria che forse non tutti ovviamente volevano oggi, dobbiamo vedere un pochettino, vediamo un pochettino se riusciamo praticamente in questa maniera a rigiocare, penso di sì ragazzi, quindi riavviamo il nostro incredibile videogame, vedete ragazzi un gioco che sicuramente addirittura esce Goku, addirittura è Agatha Sorrentino, un po' l'indicino di Agatha Sorrentino, Agatha Sorrentino è la nostra mitica amica, facciamo una nuova partita, quindi facciamo un primo viaggio e abbiamo capito come iniziare un pochettino a giocare, è un pochettino difficilotto questo gioco, iniziamo a saltare questa scena, perfetto, iniziamo praticamente a mettere la prima, iniziamo quindi, perfetto, la tua prima spedizione, ok perfetto, attiviamo praticamente, accendiamo praticamente il motore, ecco che rilascia il freno a mano, premendo A, praticamente ho rilasciato il freno, oh mamma mia ragazzi, col freno a mano, ah, mo va più veloce, mo va più veloce, noi dobbiamo stare attenti, come potete vedere, è veramente incredibile, guardate quel carrettillo, il carrettillo, ecco qua come va, ciao ciao, cagnolino ragazzi, è arrivato il cagnolino con il trattorino, praticamente sono maschio, chiamami Alessandrino, Alessandrino ti chiamerò, ti chiamerò Alessandrino, praticamente andiamo qui sopra ragazzi, vedete com'è brutto guidare in mezzo al fango, praticamente soprattutto con i barili, vedete, dobbiamo arrivare praticamente in questo luogo, praticamente cercando praticamente di andare avanti, perfetto, perfetto, andiamo avanti da quest'altra, la sto giocando a zero costruzioni, è cagnolino, cagnolino, ma cosa dici, cagnolino, mamma mia ragazzi, cagnolino sta andando, sta andando, sta andando molto molto in una forma un po' bruttariella, dobbiamo dire la verità, non è da te cagnolino dire queste cose un po' bruttarielle, dobbiamo dire la verità, mentre fai queste cose, ho capito che hai qualche problemino, ecco qua cagnolino, cagnolino ride, 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 scherza, ride, scherza come scimmia, però da cagnolino non me l'aspettavo ragazzi, una cosa del genere, ma che devo fare? Ho fatto l'indicatore, sono andato nell'indicatore e devo parcheggiare il carrettello, vedete ragazzi, ho preso da un mio fratello il cagnolone, è preso dal cagnolone, è preso dal cagnolino, è preso dal cagnolone, ragazzi, guardate qui in mezzo al fango, questa è la fine che abbiamo fatto stamattina, praticamente, questa giornata, una giornata molto triste ragazzi, molto triste, perfetto, vediamo fase completata, Hacker Italia, avviso di edizione straordinaria, hacker che vanno da hackerare al centro Africa, alla Finlandia, mi devi chiamare Alessandro, Alessandro, lo so, Agata Sorrentino, però la problematica, la problematica, la problematica è che io leggo i nickname ragazzi, ma il fango è cacca, no, è proprio fango, è acqua stagnante, penso un pochettino, fatta sa, fatto, fatta sa porcellino, il porcellino, volevo vedere il porcellino, eh no, purtroppo ragazzi, come potete vedere, ci troviamo qui in un posto fangoso, vedete addirittura, che orrore, che orrore, molto brutto, ah, che brutto, guarda, guarda il fango, mezzo al fango, non potevi comprarti, non potevi comprarti il cavallone da qualche altra parte ragazzi, ecco, dovevi attraversare il fango, praticamente, il primo viaggio, fatta, mi saluti, Lucio Borrelli, grande Lucio Borrelli, ragazzi, caro Lucio Borrelli, ciao, come stai, buonasera, ti benvenuto sul canale del Giocherellone, qui tieni per tutto RB e passa la marcia inferiore, RB, la marcia inferiore, come faccio a passare la marcia inferiore, scusami un attimo, perfetto, abbiamo, passa la marcia inferiore, quindi premix, perfetto, ecco qua, andiamo avanti, a sud Lombardia, attaccano, quindi sei salva, sono salva, io sono a nord Lombardia, caro, 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 anche l'Italia 23, mamma mia ragazzi, guardate un pochettino, il porcellino, guardate, sono proprio un porcellino, guardate qui ragazzi, mi trovo in una brutta situazione, mi trovo in una, mamma mia ragazzi, guardate qui sopra, e qui è brutto, qui è brutto, perché, perché vedete, col carrettino dove sto andando, il mitico Wolf, ragazzi, è arrivato il mitico Wolf, io sto male, domani non posso andare a scuola, mi dispiace, Alessandrino, Alessandrino, Alessandrino sta male, e quindi che cosa farai domani? Sarai a fare i compiti, zona risorse, inventario, tieni per un terribile e passa la marcia inferiore, ecco qua, che devo fare, che devo fare qui, ok, perfetto, piego l'inventario, e possiamo anche andare avanti ragazzi, un gioco, che marcia inferiore, che devo fare con la marcia inferiore, perfetto, me ne vado praticamente di qua, perfetto, devo andare forse in retromarcia ragazzi, in retromarcia, fase completata, vedete un pochettino in retromarcia, avvio la modalità di scambio, avvio la modalità di scambio, perfetto, tè fuoristrada, zona risorse, e che devo fare? Quindi devo uscire praticamente, vedete ragazzi, quindi metto praticamente la marcia qui sopra, per fare retromarcia con LT, perfetto ragazzi, andiamo a fare retromarcia, cagnolino, ciao, ciao, bau bau bau, micio micio bau bau, micio micio bau bau, col cane ragazzi, col cagnolino, immediatamente, quindi abbiamo fatto, vedete ragazzi, marcia automatica, vedete addirittura come andiamo con questo carrettono, con questo carrettono, incredibilmente, fase completata, ok, ci stai raccontando, regolare la pressione in base al tipo di aereo riducente, la trasforma migliora, senza sembra, ma cos'è più carburante, perfetto, regolo la pressione, pressione normale, perfetto, pressione ridotta, pressione normale, pressione bassa, praticamente, perfetto, consumo carburante, pressione bassa, mamma mia ragazzi, ecco, vado a confermare, andiamo subito via, ho capito un pochettino come si gioca, bau bau, micio micio bau bau, cagnone sei bello, sei bello e buono, sei bello e buono, vive il cane ragazzi, vive il cagnolino, wolf, guardate un pochettino ragazzi, che gioco, un gioco dove purtroppo ci troviamo in situazioni un po' bruttariele, ecco, ecco Arturo, il grande Arturo, Arturo il duro, guardate un pochettino, guardate il camioncino, guardate come guida Arturo ragazzi, guida in una maniera un po' bruttariele, la dobbiamo dire la verità, è questo, ovviamente, questo gioco in cui, durante le spedizioni, qualche tannica di carburante, tieni ripetuto lb e rifornisci il veicolo, riforniamo, riforniamo il veicolo con le tanniche, è arrivata Auri, Auri, ciao, sono Auri Birichini, l'altro account, mi fa piacere, Auri Birichina, che tu sia tornata, anche l'Italia dice, BLEB, BLEB, ACHER, ecco qua, questa è la mitica, avete visto ragazzi, vi ho messo la formula magica, i pezzi di ricambio, premi lb, praticamente, premi a, praticamente, che devo fare, tieni ripetuto lb e quindi seleziono il componente danneggiato, e qual è il suo componente danneggiato? nessuno, praticamente, che cosa si è danneggiato, quindi vado, ovviamente, a premerlo, ok, perfetto, andiamo, andiamo avanti, ce l'hai fatta, ce l'ho fatta, ho riparato, ho riparato, che cos'è, non funziona più la macchina ragazzi, non funziona più la macchina, vai, vai, accendi la macchina, vai, ecco qua, vai, 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 tieni ripetuto lb e selezioni il componente danneggiato, perfetto, qual è il suo componente danneggiato? Allora, tieni premuto lb, ok, tieni premuto lb, ecco qua, vedete il componente danneggiato, le ruote, perfetto, posso, posso riparare tutto, vai, avanti, ecco qua, che grande sorpresa, Lucio Borrelli, grazie, grande, e grazie, ma che squadra tifo, io Napoli, sono un napoletano, si è scocciata, si è scocciata, la mitica ruiberichina, Agata Sorrentino, dove abiti? Lombardia, ragazzi, attenzione a questa parte qua, andiamo in retromarcia, andiamo in retromarcia e subito andiamo, ovviamente, ad accelerare, guardate che bello, guardate che, ebbè, siamo arrivati finalmente, mamma mia, ragazzi, è assurdo, Agata Sorrentino sarebbe Alessandrino, Alessandrino, quindi andiamo a consegnare la scheda, abbiamo spedizione completata, abbiamo ricevuto il premio, che bello, che bello, che bello, e andiamo a vedere, Wolf, ma come c'è scritto Napoli, Napoli, come è scritto Napoli, N-A-P-O-I-O-L-I, Napoli-Torino 1-1, la riuscita dal torneo fa stare il portiere del Napoli, fermo, ci dispiace, dispiace per il povero Napoli, comunque, ragazzi, dobbiamo fare la spedizione, in Colorado, ragazzi, vedete la prima spedizione, eccola qua, praticamente, andiamo, andiamo, andiamo a selezionare il nostro camion, vedete un pochettino che camion, non ci vogliamo pigliare, la macchinilla, la macchinilla mi piace, ragazzi, andiamo a selezionare la macchinilla, perfetto, pezzi di ricambio, non mi inventare, ci porteremo questo, ecco qua, ci porteremo anche la tannica di benzina, vedete che bello questo gioco, è molto molto bello, ragazzi, dobbiamo dire la verità, perfetto, vogliamo giocare, ci fai giocare, ecco qua, dobbiamo fare che cosa, ecco qua, perfetto, mi fai giocare gentilmente, ecco qua, perfetto, potenziamento, ok, abbiamo potenziato tutto, vedete, ta, ta, ecco qua, perfetto, e poi, e poi che devo fare, e poi che devo fare, praticamente, codice indietro, mappa, ok, rimuvi, ok, se poi riusciamo a giocare, forse mi fa piacere, ragazzi, è un gioco un pochettino così, negozio camion, presente questa, la nostra macchinina, perfetto, perfetto, requisiti, martinetto e il cassone, quindi devo mettere il martinetto, vedete, e il cassone, quindi il cassone, lo tengo, lo devo mettere, praticamente, qui, il cassone, forse questo è il cassone, forse questo è il cassone, dov'è il cassone? Inventario, gancio, martinetto, cassone, cassone, deposito, vedete, un pochettino carburante, carburante, vedete, un pochettino, e non ci riusciamo, ragazzi, non ci riusciamo, perché ci serve, forse, qualche altra cosa, vedete, un pochettino, chiudiamo qua, perfetto, e vogliamo giocare, ma non riusciamo a giocare, ragazzi, perché? Perché, purtroppo, succedono delle cose un po' brutte, abbiamo capito, ecco qua, perfetto, ci fai giocare, non ci puoi far giocare un gioco, un pochettino, un gioco, un pochettino, che a volte, a volte, ti fa, ti fa, ti lascia così, ti lascia così, dobbiamo dire, se potessimo giocare, sarebbe fantastico, ragazzi, però, negozi a camion, perfetto, ci fai, vedi, ok, acquisto il camioncino, perfetto, acquisto il camion, perfetto, ora possiamo andare indietro, ecco qua, il nostro nuovo camion, ragazzi, pensate un pochettino, perfetto, che noi riusciamo, ovviamente, a, diciamo, iniziare, praticamente, perfetto, quindi abbiamo detto che ci serve il martinetto e il cassone, praticamente, il cassone di ricambio, praticamente, che cos'è questo coso qua, perfetto, abbiamo acquistato, ecco qua, forse questo non lo possiamo acquistare, e poi vorrei giocare, ragazzi, ma non riesco a giocare, perché, perché dispositivi, che sono questi dispositivi, ma mi fai giocare un po', ecco qua, purtroppo, ragazzi, questi giochi troppo macchinosi, purtroppo, devo dire, a verità, a me non piacciono, infatti, lo so bene, forza Napoli, sempre, praticamente, ragazzi, se giocare noi, usi il codice pirito di forza Napoli, ecco qua, il pirito, il grande pirito, praticamente, sì, voglio uscire, voglio uscire da qua, però volevo giocare, è possibile giocare, carica gioco, negozio DLC, continua, carica gioco, ragazzi, che dirvi, questi sono i giochi, questi sono, ma che gioco è Wolf Expedition, a MudRunner Game, dobbiamo, praticamente, fare le spedizioni e fare, e completarle, praticamente, vedi, l'espedizione libera, ecco qua, la mitica requisiti, martinetto, il cassone, ok, prima dell'espedizione, prendi un veicolo, prendi almeno un veicolo, perfetto, ho preso il veicolo, allora, ci serve un cassone, eccolo qua, quindi questo ci serve, per forza, perfetto, andiamo a pigliare nell'inventario, nell'inventario e abbiamo a mettere il martinetto e questo coso qua, poi possiamo mettere, praticamente, anche questa cosa qua, perfetto, andiamo ad acquistare, abbiamo acquistato, quindi possiamo forse giocare, vediamo un po' che tiro, ok, torna indietro, ce la faremo, ragazzi, a giocare, secondo voi, ecco qua, io la vedo male, la vedo male, perché, devo dire, avete, ho capito, ho caricato tutto, ho messo l'inventario, ho messo l'inventario, consumabili, ok, perfetto, 50 litri, cosa vuoi, cosa vuoi, cosa vuoi, moduli base, ragazzi, io questo gioco, chi l'ha fatto, la è, appunto, appunto, lo stavo cercando, lo stavi cercando, lo stavi cercando, Wolf 010, ma a me non sto capendo nemmeno niente di come si possa giocare, ho selezionato il veicolo, perfetto, ho selezionato il veicolo, schiera, schieriamo il veicolo, perfetto, lo schieriamo qui, iniziamo la spedizione, abbiamo capito dopo 28 minuti, praticamente, come riuscire a giocare a questo videogioco, perfetto, cioè togliamo il freno a mano e iniziamo subito ad andare, praticamente, dove dobbiamo andare, ragazzi, di qua, praticamente, vedete, col nostro camioncino, che ovviamente è veramente qualcosa di assurdo, chi l'ha fatto, ha meglio la corsa, ha meglio l'assetto di corsa, sicuramente, caro Wolf, effettivamente è un gioco che per quanto possa essere originale, sinceramente non è che mi stia piacendo tanto, anche perché diciamo lo trovo lento e macchinoso, andiamo qui dietro a mettere, usa la minimappa, ok, ma mi devi dire tutto, praticamente, sì, ho capito, apro la minimappa, ho capito perfettamente, ragazzi, sì, no, è andata, togliamo il freno a mano e vediamo, non ho capito come si chiama, Expedition a Mad Runner Game, ragazzi, iniziamo subito quindi ad andare da questa parte qua, mamma mia, subito ci siamo, ci siamo addirittura buttati sulle rocce, ragazzi, guardate qui sopra, è veramente una situazione un poco, un poco bruttarile, raggiungi lo stagno, lo stagno analizzalo con l'ecostandaglio, addirittura tutto sto, sto, sto cosa, andiamo nello stagno, andiamo ad analizzarlo, fase completata, siamo nello stagno, fatto molto bene, dobbiamo dire la verità, andiamo in dispositivi, uso lo scandaglio per fare che cosa, poi dopo alla fine, lo ho analizzato, lo ho analizzato, e andiamo praticamente nello stagno, è fatto bene anche l'acqua, anche la rifrazione, come potete vedere, ragazzi, dell'acqua, è fatto bene, Alt F4, ora ti dono 100 euro, Lucio Borrelli, grazie, grazie che ci doni 100 euro e che supporti il canale, ma oltre che abbandonare 100 euro, puoi anche fare una bella cosa, puoi abbonarti al canale, abbonarti al canale, costa poco e ti diverte, ti divertirà, penso un pochettino, caro Lucio Borrelli, grande lucetto, caro Lucio Borrelli che supporta, ragazzi, il giocherellone, supporta questa grande cosa, abbonati su Twitch, abbonati su YouTube, abbonati dappertutto, caro Lucio Borrelli, compri gadget del giocherellone, ecco qua, divertiti sul canale del tuo amico, il giocherellone, il giocherellone, colui che ti porta, guarda qua, i giochi dei camion, che purtroppo, ragazzi, a volte succede, succedono delle cose brutte, vedete, ragazzi, guardate qui, andiamo a riparare le gommine, praticamente una gomma è praticamente saltata, ragazzi, è molto triste questa cosa, vedete, dobbiamo cercare, quindi, di abbassare, praticamente, la pressione, livello d'acqua pericoloso, perché livello d'acqua è pericoloso, cosa sta succedendo, ragazzi, tutto, tutto questo per fare che cosa, ecco qua, ragazzi, ci siamo bloccati, ci siamo bloccati e purtroppo, ragazzi, dobbiamo dire la verità, non lo pensavamo, questa cosa qua, perfetto, ce ne possiamo anche andare, vedete, un pochettino, abbiamo attivato la trazione, praticamente, superiore, il livello d'acqua è molto, molto pericoloso, e quindi ce ne possiamo andare, ragazzi, un gioco dove bisogna, ovviamente, ragionare a missione, attenzione alla missione, bomba, di quattro ruote, quattro ruote che stanno partendo, ragazzi, guardate qui, sopra, il camioncino di mamma, oh, mamma mia, ecco qua, il camioncino della mamma, praticamente, vedete, dobbiamo andare, forse, qui sopra, non sappiamo nemmeno dove dobbiamo andare, ragazzi, il livello di pressione, ovviamente, è alta, perfetto, andiamo qui sopra e cerchiamo, ovviamente, di metterci qua sopra, che dobbiamo fare, commercio, commerciamo, che devo commerciare, che ti devo dare, praticamente, non lo so, non lo so nemmeno io, buon pomeriggio, Flavio De Felicibus, caro Flavio, buonasera, Agata Sorrentino, giocherellone, dici, dici, cosa devo commerciare, ragazzi, i ricambi, praticamente, qui sopra, praticamente, qui sopra, ragazzi, un gioco un po' noioso, devo dire la verità, non mi aspettavo che fosse così, non mi aspettavo che fosse così, però, purtroppo, addirittura, esce del fumo nero, con il camioncino sciordoso, io lo dovrei cambiare, è il camioncino, è il camioncino Lucio Borrelli, mamma mia, ragazzi, comunque, ritorniamo, praticamente, da queste parti qua, ma che devo fare, prima, prendi l'oggetto, stazione radio, prendiamo l'oggetto, guardate un pochettino, ragazzi, con questo camioncino, vedete un pochettino, che cosa vado a fare, sicuramente, molto simulativo, oh, mamma mia, ecco qua, molto simulativo, ma chi ha fatto la cacca, il cagnolino, cagnolino si è sentito male, si è sentito male il povero ragazzo, purtroppo, il povero cane, che si è sentito male, è venuto un mal di pancia incredibile, e adesso il caro cane, praticamente, si trova in una brutta situazione, boom, praticamente, ecco qua, questo sarà il nostro parcheggio, ragazzi, il parcheggio, ragazzi, quindi possiamo commerciare qui sopra, quindi dobbiamo pigliarci i cassoni, che dobbiamo fare, dobbiamo mettere qualcosa qua, ragazzi, non so nemmeno che cosa fare, nemmeno, praticamente, 10 litri di carburante, vado a mettere 10 litri di qua, 10 litri di là, praticamente, cosa sta succedendo, ragazzi, su questo canale, è con me, ho commerciato, e adesso dove me ne devo andare, boh, lo sa solamente questo gioco, ragazzi, un gioco, Porello, Porello, si è un po' triste, di dove sei? Io di casa al muro, Lucio Porelli, io abito in Lombardia, Agata, non capivo che intendevi, Agata, sono detto, ma giochi a Fortnite oggi, stasera, grande torneo, ragazzi, di Fortnite, il super torneo, pensate un pochettino, nel grande super torneo, vedete, ragazzi, che cosa sta succedendo col camion, oh, mamma mia, il camion, mamma mia, ecco qua, veramente incredibile, guardate che camion, il camion del Balumba, il camion del Balumba, ragazzi, vabbè, ragazzi, io questo, questo gioco, sarà pure simulativo, sarà pure, oh, mamma mia, in faccia, praticamente, al motore, ho rotto, ho rotto il motore, ragazzi, avete visto, è un gioco sicuramente molto, molto simulativo, addirittura c'è il salvataggio automatico, ma non so che cosa debba salvare, in quanto non abbia fatto niente, è un gioco che vi può piacere, vi può non piacere, però, diciamo che è un'ottima variante, è un'ottima variante, andiamoci per di qua per capire un attimo che cosa, che cosa possiamo fare, che cosa possiamo, dove possiamo andare, ragazzi, qui sopra i gommoni, i gommoni, guarda i gommoni, i gommoni, i gommoni della giungla, praticamente, vedete, qui sopra i gommoni, guarda, poi, proprio in faccia all'albero, ragazzi, proprio in faccia all'albero, che stavamo quasi per sradicare, ragazzi, è simpatico, intendevo chi ha fatto la cacca, la cacca, il cagnolino si è sentito male, aveva mal di pancia perché beve il latte freddo, beve il latte freddo e purtroppo succedono queste cose qua, eccolo qua, ragazzi, è simpatico perché è simulativo, vedete, ragazzi, è molto simulativo come gioco, però, ovviamente, ovviamente, la problematica è che poi bisogna vedere la bellezza, praticamente, vedete, ragazzi, del gioco, guardate la manovra, la manovra del camion, ragazzi, veramente bello, il camioncione, perché che cosa è questa cosa, quel paracadute, hai scoperto la fornitura, ho scoperto la fornitura, ho scoperto, ho capito, perfetto, ho scoperto, a 20 km orale, ho scoperto la fornitura, oh, mamma mia, mamma mia, no, e questa è la fine, è la fine di questo gioco, ragazzi, un gioco che finisce così, in maniera anche comica, dobbiamo dire la verità, con i due serbatoi sotto, e questo è il nostro camioncione, vedete, ragazzi, triste, 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 ok, ragazzi, io a me non piace, devo dire la verità, poi, se voi lo gradite, mi sa che cagnolino c'è rimasto, è rimasto in mezzo alla cacca, se poi voi gradite giochi così, che dirvi, dei gusti bus non si disputano, i gusti non si disputano, ragazzi, va bene, ragazzi, che dirvi, provatelo, sicuramente molto originale, ma non fa proprio per me questa cosa molto lenta, fare missioni, non si capisce niente, con tutto che in italiano, figuratevi se era in tedesco steretto, va bene, signori, se vi piacciono i miei video, iscrivetevi sul canale del giocherellone, youtube e twitch sono i principali social network, potete mettere mi piace, condividere, commentare, abbonarvi, che vi consiglio sempre, donare, e ovviamente iscrivervi, gli altri social network del giocherellone, trovate box informazioni, venite anche sul discord, dove ci sono quasi tutti, volete comprare i gadget del giocherellone, informazioni, poi negozio, volete comprare addirittura giochi a un prezzo scontato, solo se siete iscritti, cliccate su informazioni, e poi sul link a Instant Gaming, volete comprare uno dei miei tre libri pubblicati, cliccate all'interno di questi video, che pubblico short, video completi, o addirittura, ovviamente ragazzi, che dirvi, le mitiche live, e troverete link ad Amazon dei miei libri. Lucio Borrelli stasera, non so se posso seguirti, nel caso non posso vedrò il video, domani ovviamente ti supporterò con l'accento. Ti ringrazio, caro Lucio Borrelli, ricordati sempre che ti consiglio sempre di vedere dopo i video, perché le live le vedrai in formato 9 sedicesimi, mentre i video le vedrai in formato widescreen 16 noni, alta risoluzione, audio di altissima qualità, la webcam e la chat. Ora mi scrivo anche, grazie Lucio Borrelli, ti ringrazio, visto che ti sei iscritto, puoi richiedere un videogioco, un videogioco praticamente in streaming, con video dedica. Wolf X010, Lucio era ora, finalmente ragazzi, adesso però voglio dedicare un videogioco al caro Wolf X10, ovvero il gioco, ditelo voi, degli X-Men. Ciao a tutti e a tutti, ci vediamo tra pochissimo, ciao.